I casi di diabete in Liguria in questo momento come sono? Aumentano oppure si rimantengono stabili? Il diabete purtroppo è un'epidemia e i casi di diabete stanno continuando ad aumentare e la sua pericolosità è legata soprattutto al fatto che non ha particolari sintomi. In Liguria si stima che siano oltre 100.000 le persone affette da diabete, di cui 73.000, se non ricordo male, sono quelle già prese in carico dal servizio sanitario. Tutti gli altri? Gli altri sono persone che o non hanno il diabete o non hanno nel senso che non lo hanno ancora diagnosticato, però hanno la malattia in corso o non se ne prendono cura in modo adeguato. Perché avviene questo? Che sensibilità c'è verso la malattia? Purtroppo il dato statistico ci dice che il diabete è percepito come una malattia poco pericolosa. In realtà il diabete è una malattia estremamente insidiosa, è una delle prime cause di cecità in Italia e se non diagnosticata per tempo e non curata per tempo le complicanze sono molto gravi e invalidanti. La più grave che viene trattata in Liguria? Una delle statisticamente più rilevanti in Liguria sono le amputazioni legate agli arti inferiori. Quanto può rimanere silente il diabete? Il diabete tipo 2 non ha sintomi e va rilevato esclusivamente facendo delle verifiche periodiche sullo stato della propria glicemia. Due giornate di screening gratuiti proprio qui nel Levante dove e in che orari? La mattina del giovedì saremo a Lavagna dalle 9 a mezzogiorno in piazza Vittorio Veneto con la dottoressa Corsi e venerdì mattina dalle 9 a mezzogiorno a Chiavari davanti al comune con la dottoressa Ponzani che è la responsabile del centro. Sono dottoresse diabetologhe quindi in grado di fornire immediatamente un riscontro alle glicemie e ai dati rilevati.